Ieri, nella finale di Banando con le stelle, ci sarebbe stato un piccolo simpatico incidente, chiamiamolo sexy a luci rosse, per la bellissima Sabrina Salerno. Infatti dopo l'esibizione con il buon Samuel Peron, la stupenda Shogerno, che cantante, icona degli anni 70-80, è dovuta andare indietro alle quinte per colpa della tenuta del suo corpetto. Infatti si sarebbe letteralmente sganciato. Il caropetto non avrebbe letto, un momento iniziale di imbarazzo ha catalizzato la tensione, poi c'è stata la corsa nel dietro alle quinte per cercare di mettere il rimedio corretto a quel momento emblematico. E' stata la bella Amiri Carlucci, la conduttrice ad accorgersi di tutto quello che era accaduto, stupita che la coppia fosse rimasta abbracciata al centro del parco, nonostante la performance era già finita da un pezzo. Si è sganciato il corpetto, aiuto, è stato un piccolo incidente, a correde a correde, sarebbero state queste le parole utilizzate e espresse da Amiri Carlucci. L'incidente però si è risolto nella maniera più rapida che esista, con il buon Mariotto che, ha fatto sapere, poteva essere un simpatico regalo di Natale e invece nulla. Insomma, è stato un momento anche abbastanza simpatico se vogliamo, oltre che ovviamente anche molto, molto sexy. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la visione di questo video di oggi, iscrivetevi al canale, mi raccomando, che è narrato italiano, questo video non vuole ledere la privacy di Sabrina Salerno, nel di Samuel Perono, ma solo informare eventuali persone. Un salutone caro a voi e al prossimo video.